Siano lodati Gesù e Maria Cari fratelli e sorelle, oggi la memoria francescana di Sant'Angela da Foligno Nacque a Foligno attorno al 1248, 22 anni dopo la morte di San Francesco d'Assisi e grazie ai terreni e ai palazzi posseduti dalla sua famiglia, dentro e fuori le mura della città visse la sua giovinezza in un ambiente ricco e agiato, sorretta dall'affetto dei familiari Lella, così è chiamata familiarmente in casa, è una ragazza bella, intelligente, volitiva e anche ricca Lo confesserà più tardi lei stessa, sappiate che per tutto il tempo della mia vita ricercai come potessi essere adorata e onorata Questa sete di adulazione e di ricerca incessante delle vanità della vita l'allontana ben presto dalla pratica religiosa e neppure il matrimonio e i figli che diede alla luce riuscirono a riportarla sulla retta via A un certo punto della sua vita si accorse di aver fallito, di aver sbagliato tutto e riuscì a comprendere questo grazie anche agli straordinari avvenimenti verificatisi in quegli anni a Foligno i terribili terremoti del 1279 e del 1282, una disastrosa alluvione e la guerra con Perugia Questi avvenimenti turbarono profondamente i suoi cittadini alcuni dei quali sentirono impellente bisogno di una più austera condotta di vita Su Sant'Angela influì in modo particolare l'esempio davvero straordinario di Pietro Crisci detto Pietruccio, suo concittadino, che aveva venduto tutto il suo ingente patrimonio e lo aveva distribuito ai poveri per una vita di severa scesi e di preghiera Lei, che in un primo tempo si era fatta beffe di lui, rimase poi molto colpita dalla sua serenità spirituale e si sentì attratta ad imitarlo Dopo un periodo di vita mondana e spensierata, verso il 1285 subisce un mutamento profondo che gradualmente la porterà ad un'altissima perfezione spirituale Profondamente attratta dall'ideale di San Francesco d'Assisi, nel 1291 entrò a far parte del Terzo Ordine Francescano aiutata dai frati francescani del vicino convento e soprattutto da uno di essi, frate Arnaldo, che era anche suo cugino E fu lui, che ha ascoltato la sua prima vera confessione, che segnò l'inizio della sua nuova vita e sarà ancora lui a guidarla nella via della perfezione e a registrare in un libro le sue visioni Sant'Angela morì nel 1309, confortata da numerosi discepoli per i quali anni prima aveva istituito un cenacolo di vita spirituale e di azione sociale Il suo corpo è venerato presso la chiesa di San Francesco, dei frati minori conventuali a Foligno Il Papa Francesco nel 2013 la dichiarò santa Parlando un giorno di Dio con una sua compagna, Sant'Angelo ebbe a dire di aver contato per avergli sperimentati 30 passi o mutamenti che l'anima compie quando si incammina nella via della penitenza Iniziamo oggi, in modo molto sintetico, a esaminare i primi 17 passi Domani termineremo la nostra meditazione Il primo passo è la conoscenza del peccato L'anima viene presa da un grande timore dell'inferno e piange lacrime amare Il secondo passo è la confessione L'anima in esso prova vergogna e amarezza Ancora non sente l'amore ma il dolore Al riguardo, mi riferisce frate Arnaldo che si era molte volte accostata alla comunione avendo dei peccati nell'anima Poiché la vergogna le impediva di fare una completa confessione E per questo notte e giorno veniva tormentata dalla coscienza Un giorno, avendo pregato San Francesco che le trovasse un confessore esperto nel discernimento dei peccati col quale potesse confessarsi bene In quella stessa notte le apparve la figura di un vecchio frate che così le parlò Sorella, se me l'avessi chiesto prima Prima ti avrei accontentata Ma ciò che chiedi ti è concesso L'indomani, disse Sant'Angela Corsi subito alla chiesa di San Francesco Sulla via del ritorno trovai un frate All'istante decisi Era Dio che in quel momento agiva in me Di fare a lui una confessione generale In questo passo l'anima prova ancora vergogna E non sente l'amore ma il dolore Il terzo passo è la penitenza che l'anima compie per soddisfare a Dio per i propri peccati Essa si trova ancora nel dolore Il quarto passo la conduce alla conoscenza della misericordia di Dio È Cristo che l'ha concesso quella misericordia Fu lui a strapparla all'inferno Ora l'anima comincia ad essere illuminata Piange e si duole più di prima E si dà a compiere maggiori e più aspre penitenze Il quinto passo è la conoscenza di sé L'anima, già alquanto illuminata, non vede in sé che difetti Si accusa davanti a Dio e si ritiene sicuramente degna dell'inferno Il sesto passo è una certa illuminazione della grazia Per mezzo della quale mi si concedeva Diceva Sant'Angela Una profonda conoscenza di tutti i miei peccati In questa luce vedevo di avere offeso tutte le creature che erano state create per me Invocavo tutti i santi e la Vergine Beata Che intercedessero per me e supplicassero l'amore Che mi aveva concesso tante grazie Affinché vedendomi io morta mi facessero tornare viva E mi pareva che tutte le creature e i santi provassero pietà di me Col settimo passo mi era concesso di contemplare la croce Nella quale vedevo il Cristo morto per noi Ma era ancora una visione insipida Quantunque in essa io provassi gran dolore Ottavo passo Mentre contemplavo la croce mi fu data una sempre maggiore comprensione Di come il Figlio di Dio era morto per i nostri peccati Cominciai a riconoscere tutti i miei peccati Provando le vette massime del dolore E come fossi stata io a crocifiggerlo Col nono passo Dio mi concesse di mettermi alla ricerca della via della croce Ebbi questa ispirazione Se volevo camminare verso la croce Dovevo spogliarmi di ogni cosa Per procedere più leggera In altre parole avrei dovuto perdonare a tutti quelli che mi avevano offesa Avrei dovuto spogliarmi di ogni bene materiale E rinunciare ad ogni mio avere e a me stessa Passo decimo Chiedevo a Dio che cosa potessi fare per potergli piacere di più Gesù mi diceva di guardare le sue piaghe E mi faceva vedere in modo meraviglioso Come ogni cosa aveva sofferto per me Mentre contemplavo la sua passione Mi ripeteva sempre la frase Che puoi dunque fare per me Che ti sembri bastante Allora piangevo molto Passo undicesimo Mi decisi a fare più aspere penitenze Queste penitenze verranno descritte in seguito Passo dodicesimo Poiché capivo che non potevo sottopormi a una sufficiente penitenza Mentre mi trovavo a vivere in mezzo al mondo Decisi di abbandonare totalmente ogni cosa Per fare penitenza E così giungere alla croce Come mi era stato ispirato da Dio Avevo cominciato a desiderare con tutto il cuore di farmi povera E nel mio scrupolo mi trovavo spesso a pensare con timore Che la morte poteva accogliermi prima che lo fossi diventata Contemporaneamente ero salita da varie tentazioni Mi vedevo giovane E pensavo che il mendicare mi poteva essere di gran pericolo e vergogna Che sarei potuta morire di fame, di freddo E così tutti mi dissuadevano Ma ecco che per la misericordia di Dio La mia anima fu improvvisamente illuminata A tal punto che in cuore mi nacque una tale fermezza Che allora non credetti Né oggi credo Di poter mai perdere per l'avvenire In questa luce dunque disposi e decisi Che se mi dovesse succedere di dover morire di fame o di freddo Secondo quello che era o poteva essere la volontà di Dio Queste tali cose non mi avrebbero fatto recedere dal mio proposito Anche se fossi stata certa che mi sarebbero accaduti tutti quei mali Alla fine se dovevano accadermi Sarai morta e lieta nella volontà di Dio E da quell'istante dissi veramente il mio sì a Dio Tredicesimo passo Entrai nel dolore della madre di Cristo di San Giovanni Evangelista E lì pregai che mi ottenessero un segno sicuro Che avrei avuto sempre presente nella mia memoria la passione di Cristo Quattordicesimo passo Cristo mi si mostrò sulla croce più luminoso del solito E mi comunicò una più chiara conoscenza di sé Mi chiamò vicino a sé e mi invitò a porre le labbra sulla piaga del suo costato Mi pareva di vedere e bere il suo sangue che sgorgava vivo dalla ferita E in quell'attimo egli mi fece capire che così mi faceva pura Quindicesimo passo Penetravo nell'anima di San Giovanni e della madre di Dio Meditando il loro dolore E chiedevo senza posa che mi ottenessero la grazia Di poter provare sempre il dolore della passione di Cristo O almeno il loro stesso dolore Ed essi me l'ottennero Allora e me l'ottengono ancora San Giovanni, questo successe una volta sola Mi fece avere un dolore tale Che è tra i massimi che io abbia mai provato Compresi che egli per la passione e la morte di Cristo E per il dolore della madre di Cristo Deve aver sofferto un dolore così grande Da superare il martirio stesso Vivevo però ancora nell'amarezza per i peccati E non provavo la dolcezza divina Sedicesimo passo Alla fine veni liberata da questo mio stato di amarezza Cominciai a gustare qualcosa delle gioie celesti E chiesi alla Vergine che mi ottenesse lei il perdono dei miei peccati Diciassettesimo passo Dopo il passo precedente Ebbi la dimostrazione che la Vergine mi aveva ottenuto la grazia Mi fu data infatti una fede mai prima posseduta Al paragone la fede avuta finora mi pareva una cosa morta Mi seppellì così nella passione di Cristo E mi fu data la speranza che in essa avrei trovato la mia libertà Cari fratelli e sorelle Oggi ci fermiamo qui Domani continueremo a esaminare i restanti passi La pagina del Vangelo di oggi ci riporta l'episodio di San Giovanni Battista Che indicando Gesù così disse ai suoi discepoli Ecco l'agnello di Dio Gesù è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo Ha tolto i peccati del mondo morendo in croce per noi Preghiamo alla Santa di oggi, Sant'Angela da Foligno Affinché interceda per noi e ci ottenga sempre la grazia del pentimento E la grazia di trovare dei buoni confessori Che ci aiutino a fare delle sante confessioni Che segnino anche per noi una svolta nella vita Siano lodati Gesù e Maria